Luigi Bussi, direttore generale ATER Provincia di Roma. Prego direttore, ci spieghi il motivo di questa assemblea. Va bene, innanzitutto buongiorno, noi siamo qui con la delegazione dell'ATER Provincia di Roma, io sono in rappresentanza legale dell'azienda insieme al Presidente, al Commissario Ingegner Zaccariello, al Dirigente Tecnico e Architetto Luigi Giamo Cante. Sono un'iniziativa promossa dalla Regione Lazio nella figura dell'Assessore Massimiliano Valeriani e siamo qui per lavori di qualificazione di questo complesso ATER a Porto di Claudio Fiumicino. Quali sono le tempistiche, direttore? Diciamo che siamo abbastanza celeri perché abbiamo previsto che il 16 ottobre ci sarà l'approvazione del CDA e poi diciamo che entro dicembre diamo inizio e abbiamo corso all'opera. Grazie. Prego.